Ciao 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 Noi sono i cori Ciao Siamo familiari e familiari e benvenuti in un nuovo video Nello scorso video vi ho detto come potrei chiamare il canale e vi sto chiamando le chimicorni foglie alberi occhi d'amore ciao occhi d'amore e benvenuti in un nuovo video Oggi farà la ginnastica per oggi ginnastica senza peso e c'è la protezione non avete mai visto un youtuber che si sveglia in un posto straniero per me si anche io io sto dormendo le melettino e poi mi sono mangiata la mia mamma poi sono ritornata in cameretta poi mi sono ritrovata qua meno male che avevo i vestiti quindi sono vestita ma non so come l'ho finita qua veramente ma mi sono trovata una cosa io prima non ho mai visto questo posto questo lo conosco non c'è un po' se c'è un po' non 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 c'è un po' ma non c'è un po' La ruota, scusatemi. E' giusto? E' facile. E' facile. E' difficile. E si, d asci... E si, d asci... Anzi, mi metto in un posto genialissimo. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.